quello è quello che speravamo chiaro che abbiamo ancora qualche chance che passa attraverso la prossima gara di con la dinamo zagabria è chiaro non abbiamo più margini dobbiamo assolutamente vincere però avevo visto ultimamente l'Atalanta e avevo visto ultimamente lo Shakhtar e ti dirò me l'aspettacolo se uno si aspetta che l'Atalanta vada avanti i Champions vuol dire che la buona l'hanno fatta all'Atalanta è di livello straordinario faccio i complimenti al mister, ai ragazzi e faccio i complimenti alla società perché è una società che ha fatto un percorso straordinario